Ci parla del suo champagne anexil? Sì, lo devo chiamare spumante, metto lo classico, champagne noir. Siamo molto contenti, la mia famiglia ed io, perché mia moglie è l'amministratore delegato, i miei figli sono gli azionisti, io sono l'assistente. Abbiamo creato una piccola azienda in Umbria, Narni tra Narni e Tricoli, vogliamo produrre del vino rosso buono che uscirà alla fine di quest'anno e questo spumante rosato fatto con pinot nero, proprio come fanno i francesi, che è venuto molto bene, che ha avuto già qualche riconoscimento significativo perché entrerà nella guida del touring dei vini buoni d'Italia, è l'unico spumante dell'Italia centrale, perché tutti i grandi spumanti, come si sa, sono Franciacorta, sono tutti nordici, esatto, e quindi siamo contenti di portare l'Umbria nella guida del touring ed è un, secondo me, buono, poi si chiama Ne Rosé perché è un pinot nero che diventa rosé, quindi è un po' un gioco di parole. Da appassionato di vino non vedo l'ora. È qui, è già pronto, allora lo assaggeremo. Grazie a tutti.